Troppo vicino? Va bene così? Parto? Buongiorno, sono il signor Tonino, il babbo di Roberta. Sono un signore, un vecchietto che vuole mandare un messaggio a tutti i sardi della Sardegna. Domani e dopodomani, Roberta, che giorno è domani? 15, domani 15 e domani 16 maggio andate a votare. Con il referendum contro il nucleare votate sì, perché sennò guardate che succede cose incredibili. Allora io sono un vecchiettino, a me non me ne frega niente, io tanto fra qualche anno ormai non ci sarò neanche più. Però voi che siete giovani, che ci avrete la vita davanti, dovrete capire che è una stupidità. Dovrete votare sì contro il nucleare, perché questi stanno, ma cosa stiamo scherzando? Non ce la fanno neanche a togliere la spazzatura normale dalla strada e vogliono togliere la spazzatura nucleare. Non si toglie la spazzatura nucleare, capito? Non si toglie. E poi fatelo per me, anche io c'ho un bambino, c'ho un bambino, mio figlio è Roberta, c'ha 46 anni. E' ancora piccolino, mischinetto, anche lui c'è tutta la vita davanti. E anche lui va a votare. Ah, Roberta! Vero che vai a votare sì contro il nucleare? Ha detto sì, ha detto. Eh, scusate. Ah, Roberta! Metti giù, metti giù il bidone. Che cosa c'è scritto? Acqua? E poi? Raggia. E allora si befe? No che non si befe. E poi quante volte te lo devo dire che l'acqua raggia e non la regge e poi scorreggi? Ha fatto la rima. Acqua raggia. Cosa stai ridendo, disgraziata? Gli fa lo stesso effetto che gli fa le favette con uovo. Terribile. Una volta eravamo all'aeroporto, ha scorreggiato e scattato l'alarma antiterroristico. Una cosa incredibile. Ed era una cosa favette buone, non ce n'erano centrali nucleari, eh. Figuriamoci dopo, fatelo per me che qua già non si respira così. Figuriamoci col nucleare. E una cosa sola volevo dire. Lo so che sono un vecchiettino e che non dovrei dirle. Perché dovrei cercare di dare l'educazione agli altri. Però una cosa mi viene da dire dal profondo del cuore. Lo sapete dove ve le dovete mettere le centrali nucleari? Le centrali nucleari? Mettetevele in cucina, mettetevele. Va bene. E vogliamo vedere... Ho finito. Rotate sì, contro il nucleare. È importante. È una scioccheria. È una croce. Sì, contro il nucleare. Arrivederci. Sì, contro il nucleare.